Monte Rosa Ski, Alagna Gressonation Poluc Giovedì 8 febbraio 2024 Prendiamo l'Ovovia che da Stafal ci porterà al Gabbier Et voilà! Siamo arrivati al Gabbier 2318 metri E andiamo a prendere il secondo impianto, ovvero l'Ovovia Che dal Gabbier ci porterà al Passo dei Salati Et voilà! Siamo arrivati al Passo dei Salati 2971 metri sul livello del mare E chiuderemo questa quarta e ultima giornata Con la discesa dal Passo dei Salati fino a Stafal Lungo le piste G7 dei Salati e G6 Moss nera Riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60fps Hyperview Un barlume di sole, vai, sfruttiamo E andiamo a fare per l'ultima volta la G7 Salati Pista Rossa Anche la G7 di Calino Un barlume di sole, può essere venuto Un barlume di sole, può essere venuto Un barlume di sole, un barlume di sole e la gestione Un barlume di sole, vai, sfruttiamo Grazie a tutti. Colori spettacolari. Non so se il video rende, ma luce favolosa, colori favolosi. E questo sole che sta tentando di uscire dalle nuvole ci aiuta. A vedere un minimo la pista e fa la differenza. Questa è difficile da vedere. Grazie. Non si vede. E infatti rallento e scio malissimo. Grazie. 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 possibilità zero, per fortuna c'è solo da andare dritti grazie qui, very slow, che non si vede niente qui è ancora più slow perché veramente è come avere spento la luce qui ci sono anche grumi di neve quindi scodiamo, spruzziamo la neve e manteniamo bassa la velocità ora bisogna lasciare andare non si vede non si vede non si vede Grazie. Sempre più buio. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Instagram dove trovate foto per il. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. G6 MOSS Pista Nera G6 MOSS Pista Nera G6 MOSS Pista Nera G6 MOSS Pista Nera c'è un pizzico di luce in più, sfruttiamola e ora possiamo e ora possiamo Grazie. Lasciamogli andare. Il quadro in alto a destra potete vedere il relive di tutta questa quarta e ultima giornata su Monterosa Skid. Il quadro in alto. Il quadro in alto a destra potete vedere il quadro in alto a destra potete vedere il quadro in alto a destra potete vedere il quadro in alto. Ok. Passo gut. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Capito? E ora andiamo a fare il solito sentierino scorciatoia che ci porta in pochissimo tempo all'albergo. E in men che non si dica eccoci qua, siamo all'Elex Eco Hotel a Stafalla. E siamo arrivati alla fine di queste giornate di sci nel comprensorio Monterosa Ski. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video di questa giornata di sci sono terminati. Ciao, alla prossima!